La mente, quando voi nascete, è così, aperta. La mente è aperta, non avete mente conscia, bambini non hanno la mente conscia. Ora, le neuroscienze prima ci dicevano che gli schemi mentali, quindi le abitudini, non diventiamo troppo tecnici che non serve, si acquisivano nei primi sei anni di vita. Adesso le ultime ricerche sono un po' più severe, ci dicono nei primi tre anni. Io istintivamente ho sempre pensato, empiricamente poi l'ho provato così, anche con degli studi, ripeto, che siano tre anni o sei anni, ho sempre pensato che già quando i bambini vanno all'elementare sono già programmati. Non per niente vedete già il comportamento molto diverso, le abitudini molto diverse. Quando voi siete nati, quindi questo è per i genitori, sappiate, quando ci sono quei piccolini, quei bambini, che guardano hanno gli occhi sgranati, così, stanno cercando di capire come cazzo funziona questa vita e stanno immagazzinando informazioni, anche quando pensate che loro non sentano e che non capiscono, gli parlate di fianco, discutete con vostra moglie dei problemi di soldi, eccetera. C'è il bambino sta ricevendo tutte queste belle informazioni nella sua bella mente inconscia che non ha l'abilità di rifiutare quello che voi gli mettete dentro. Consciamente voi potete rifiutare un pensiero, ok? Potete farlo. Ok, no, sono in uno stato, sto pensando a una cosa negativa, siccome potete pensare solo una cosa alla volta, con buona pace delle donne e del multitasking che hanno un po' mentale, però è una alla volta, state pensando, pensate a una cosa negativa in questo momento. Qualunque cosa, mi muore il bambino, mi muore la mamma, ok? Pensate che siete a funerare, ok. Adesso invece mettetevi a pensare a una banana. Perfetto, pensiero di prima, dato via. Ok? Potete pensare a una sola cosa, potete rigettare. La mente inconscia invece non ha l'abilità di rigettare. Accetta e basta. Funziona in modo deduttivo. Tutto quello che c'è dentro va bene. E non è in grado oltretutto di distinguere tra un'esperienza vera e una cosa vividamente immaginata. Ok? Potete fare differenti, però questo è il motivo per cui quando guardate un film potete sperimentare paura, ansia, terrore. Potete piangere, eccetera. Beh, voi state guardando un film, non sapete che è finto. La mente inconscia non lo sa. Oppure voi potete immaginare vividamente di prendere un limone, sbucciarlo, annusarlo, il limone nella vostra mano, ok? Pelarlo, tagliarlo, ok? Puoi spremere un po', vedere il succo di limone. Puoi prendere e mangiarlo. Quanti di voi hanno cominciato a salivare? Io solo mentre lo stavo spiegando. La mente non si accorge che il limone non c'è. Ok? Potete fare anche i pesi senza i pesi. Voi immaginatevi, per chi fa palestra, i pesi sono fondamentalmente inutili. So che adesso i bodybuilder mi ammazzeranno, però voi potete fare degli allenamenti, vi spaccate, facendo finta di avere i pesi in mano. La mente non sa che i pesi non ci sono, quindi potete comportarvi come se i pesi ci fossero. Potete farlo con gli occhi chiusi, gli occhi aperti, con qualunque tipo di esercito. Uscite massacrate, ok? Usate pure i pesi, anche io li uso, anche oggi ho fatto i pesi, però ci capiamo. Immaginate di avere un bilanciere in mano e di sollevarlo, ok? Potete farlo con gli occhi chiusi e sentite questo bilanciere e provate a sollevarlo e farvi mucire. Posso assicurare che funziona. Perché? Perché la mente non sa la differenza. E questo è un problema, perché vuol dire che tutte le cazzate che vi circondano, tutte le cose su quanto il denaro sia limitato, il governo ladro, le tasse, ed è normale guadagnare 1500 euro al mese, tutte queste igiozie che non esistono in Cementer, la paura, la paura. A me hanno installato, per esempio, come a molte persone quando sono nate, la paura di più o meno tutto. In realtà. Ok? No, no, non fare quello, mamma mia, cosa succede? No, no, ma non fare questo. Mia mamma mi diceva da piccolo non camminare sul muretto perché se cadi muori. Sono problemi grossi, oltretutto. Ok? Vedete conto? Quindi quando il pupo è piccolino, quando voi pensate che non capiscano, sono original, vabbè, e sentono tutto quello che voi dite, tutte le cazzate, eccetera, eccetera, non hanno la mente conscia, quindi tutto quello che sento gli viene sparato nella mente inconscia e rimarrà lì. A vita. Fino a che non incontrate qualche esperto tipo me che vi dice come si riprogramma questa roba. Ok? Tutte le discussioni che avete sentito sui soldi, tutto ciò che avete visto e la vostra mente ha dedotto che fosse in quel modo, anche senza dirlo direttamente. La televisione? Beh, prime cose. Allora, io vi dico una cosa. Nessuno dei miei amici ricchi, i ricchi non guardano la televisione, non la guardano. Alcuni possono guardarlo o leggere i giornali per ottenere, come si dice, notizie di carattere finanziario per poi capire che operazioni di trading fare, ma quella è un'altra cosa. Ok? Ma non si sorbiscono le news, oppure cercano delle news molto specifiche, perché vogliono capire cosa sta succedendo a livello politico, che anche lì non è che quello che trovate scritto è vero. Dovete fare delle indagini, dovete consultare vari quotidiani, dovete consultare un sacco di grado per capire cosa sta veramente succedendo. Oltretutto, ciò che sta succedendo adesso è legato a quello che è successo prima, ma se quello che è successo prima non lo sai e quindi poi uno diventa l'analista di fonti aperte. Però, ok, non guardano la televisione, non guardano l'isola dei famosi programmi. Io vivo in una casa da 400 metri, che è nella mia villa, questo è il mio studio. Vabbè, ho un televisore, lì da 50 pollici, 60 pollici, 70 pollici, non lo so, è così. Ok, ma è acceso. Vi posso assicurare che io non sono mai andato a casa di uno dei miei amici ricchi e c'era la televisione accesa, con le news, con tutte queste stronzate, con i programmi che vi continuano a programmare, a programmare. Perché? Perché ripetizione, 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 attenzione. Ah no, ma io non ascolto big. Primo, se non ascolti, che cazzo la tieni accesa a fare? Secondo, non devi ascoltare, perché la senti. La puttanata è quella che tu non devi ascoltare consciamente una cosa perché ti vada nella mente inconscia. Perché se c'è abbastanza ripetizione, ci va lo stesso. Qualunque notizia che non vada bene, qualunque insegnamento sbagliato, qualunque cosa, non serve che voi tendiate l'orecchio. Come la pubblicità vi riprogramma, ragazzi? Nessuno sta a sentire la pubblicità in modo attento, o nessuno sente la radio in modo attento. State guidando, pensate tanto, ogni giorno, ogni giorno, poi vi ritrovate a canticchiare la canzone. Vi è mai capitato? Diciamo, ma mi è rimasta in mente. Eh sì, che l'hai sentita così tante volte, non hai dovuto impararla. L'hai imparata la mente inconscia, serve apposta. La mente inconscia serve per non dover reimparare le cose. Perché a un certo punto diventano automatiche? Perché se no ogni giorno noi dovremmo imparare a camminare. Noi dovremmo imparare a scrivere. Noi dovremmo reimparare a fare le cose che facciamo. Mentre invece tramite la ripetizione, dopo un po', penetra nella mente inconscia, e ce l'abbiamo per sempre. Ok? Quindi la ripetizione avviene lo stesso. Se voi mettete questo corso, ve lo mettete in cuffia, ve lo mettete, mentre fate altro, lo udite, a un certo punto vi ritroverete a fare, a livello comportamentale, le cose che imparavate in questo corso. Questa è una delle cose che, per esempio, ho portato in lingua italiana che nessuno conosceva. Questo metodo disturbo, ripetizione. Mettetelo lì, di notte funziona benissimo. Abbiamo le onde gamma in questo corso, la ripetizione di tutto ciò che dovete fare. Ok? Quindi, nella mente, quando voi siete nati, quando voi nascete, ok? Quando ci sono i piccoli pupi, vengono riprogrammati. Cioè, non riprogrammati, sorry, perché si chiama riprogrammazione? Qua vengono programmati. Dopo un po', dopo un po' di anni, si chiude il coperchio e sviluppano la mente conscia. Grazie. 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 Grazie.